ciao e benvenuti in un nuovo video ragazzi sono stato l'urban giants uno degli eventi di graffiti più grossi in italia vi leggo un articolo che è uscito su repubblica milano l'urban giants torna a colorare trezzano sul naviglio 130 artisti all'opera per rendere più bella la città capite che 130 artisti italiani internazionali non potevano andare a vederli tra l'altro sono contento che sia tornato questo evento dopo due anni di stop praticamente e ho avuto la possibilità di essere presente all'evento per entrambi i giorni quindi date un'occhiata a cosa filmato grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram dove di solito posto i miei disegni e potete essere aggiornati su tutto quello che accade intorno a Teio Production. E per il resto noi ci vediamo al prossimo video. Peace!